Resta acceso il dibattito sul fronte della pedonalizzazione del centro storico. Salgono a 394 le firme di commercianti, residenti e fruitori che restano contrari all'area pedonale da via Denino a via D'Eramo, individuata dal comune di Sulmona. La pedizione popolare sarà depositata stamani al municipio dall'ex consigliere comunale Nunzio Giovannelli e da Giorgio Ottaviani. Non vogliamo fare una guerra contro l'amministrazione comunale, nemmeno criticare in toto il progetto di riqualificazione ma solo aprire un confronto con gli amministratori che in merito all'area pedonale hanno solo scelto di chiudere senza tener conto delle esigenze di residenti, dei disabili e dei commercianti per quanto riguarda il problema dello scarico delle merci, fa notare Giovannelli. I sottoscrittori della petizione non siamo contrari ad una pedonalizzazione e ad un'idea di pedonalizzazione riguardante il centro storico. Il problema sorge spontaneamente perché leggendo gli atti si creano delle condizioni alquanto critiche riguardo i residenti, lo scarico delle merci e altri tipi di problematiche. Ci saremo aspettati dall'amministrazione attuale un piano di fattibilità contestualmente alla delibera che evidenziasse queste criticità e che ponesse risoluzioni in merito. È anche certo che non si può pensare, ove accadono soprattutto, io mi riferisco allo scarico delle merci, pensare di dover scaricare le merci in una non precisa luogo perché ci sono normative ben precise che delimitano soprattutto sui prodotti deperibili una serie di problematiche dove noi commercianti andremo incontro. A sostenere la raccolta firme è stato anche il referente di sorranità Valle Pelini e Alberto Di Giandomenico che a onda Tg ribadisce. L'amministrazione comunale ha preso l'iniziativa senza consultare i cittadini. Alla luce di questa delibera noi siamo pronti a presentare ricorso. Per riqualificare il centro storico la prima cosa da fare è quella di riportare la gente e le attività. Pensare a un piano di carico e scarico delle merci per i commercianti, di accesso per i residenti e poi si può pensare alla chiusura alle auto, aggiunge Di Giandomenico.